Vi rubo giusto due secondi per informare soprattutto ai nuovi arrivati di iscriversi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per non perdere nessun video di The Walking Dead Che dire, iniziamo subito Bella a tutti ragazzi che parla è Foxhound e bentornati nel canale The Walking Dead News, spoiler e altro Sono tornato ragazzi con un nuovo video, questa volta andremo a parlare degli ascolti Perché come sicuramente avete detto dal titolo, gli ascolti sono in calo E' arrivata la fine della serie, ovviamente oltre a questo andremo come al solito a rispondere alle vostre domande che mi fate sempre nei commenti Quindi mi raccomando ragazzi fatemi anche in questo video tantissime domande così che potrò rispondervi nei prossimi video Che dire, non ci perdiamo in chiacchiere ed iniziamo subito con il video Ovviamente ragazzi troverete il link in descrizione dell'articolo se si può dire così ma più che altro è wikipedia Che ha fatto una template dei rating che comunque sia vi consiglio assolutamente di guardare per capire meglio cosa sto dicendo Ma in ogni caso sicuramente vi farò vedere proprio la immagine sia del grafico che ci fa intendere davvero tanto E sia per quanto riguarda la tabella con quelli che sono i spettatori per episodio Ovviamente si intende per i milioni visto che The Walking Dead ha sempre avuto milioni e milioni di telespettatori Ma questa volta in questa settima stagione sono stati davvero molti molti di meno Infatti sicuramente come adesso starete vedendo vabbè la prima stagione parte con un rating di 5,35, 4,71, 5,07 E poi comunque si tiene sempre grossomato sui 5 milioni Infatti il totale diciamo è proprio la media è proprio il 5,24 Infatti la media è proprio questa qua Per quanto riguarda invece la seconda stagione ovviamente ne ha ottenuti sempre di più con una media del 6,91 E poi la terza stagione ha cominciato ad assumere numeri veramente grossissimi Del tipo 10 milioni, 9 milioni, bla 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 e tutti questi milioni di telespettatori Per fino ad arrivare appunto a una media di 10,75 milioni Parliamo subito di media perché comunque gli episodi sicuramente non è che sto a elencarvi tutti quanti i milioni di ogni episodio Però insomma nella quarta stagione abbiamo avuto un rating abbastanza alto del tipo di 13 milioni di telespettatori E arrivando poi alla quinta stagione con 14 milioni e alla sesta con 13 milioni Cioè la sesta ragazzi che è stata secondo me una delle migliori stagioni Ha ottenuto un rating più basso rispetto a quella della quinta stagione Quindi abbiamo visto un rating molto più alto rispetto a quello della sesta Proprio perché comunque insomma la sesta stagione magari ha mostrato un po' di meno Ha dato un po' di meno ma comunque si è tenuta grossomodo ai livelli della quarta stagione A livello di rating Per parlare invece purtroppo di quella che è la settima stagione Rischiamo di avere una media degli spettatori davvero davvero bassa Infatti sicuramente come state vedendo dall'immagine abbiamo TBD ovvero non ancora determinato Però perché comunque non è ancora stato trasmesso Quindi insomma il quindicesimo e il sedicesimo episodio devono essere ancora trasmessi Quindi non si può fare una media azzardata di quelli che sono i telespettatori Ma comunque tenendoci sotto questo diciamo limite Potrebbe essere che non potremmo arrivare nemmeno ai 10 milioni di media Quindi insomma è una cosa davvero davvero problematica per la settima stagione Infatti il primo episodio della settima vabbè ha avuto 17 milioni Perché comunque insomma è un episodio è stato un episodio davvero stupendo E quindi meritava davvero tanto Poi nel secondo episodio gli spettatori sono calati Ma è ovviamente che calano come abbiamo visto sempre tutte le stagioni Nel senso che è normale che calino i spettatori per gli episodi Ma comunque è sempre stato in discesa diciamo quello che è stato appunto Sono stati gli episodi infatti comunque abbiamo sempre avuto una media di 10 milioni 11 milioni 12 milioni Però ragazzi gli ascolti sono fortemente fortemente in calo Infatti tutti l'hanno notato tutti quanti hanno notato questo calo di ascolti Non vorrei arrivasse la fine di The Walking Dead presto rispetto a quella che ha detto Robert Kirkman Perché Kirkman ha detto lui stesso Che molto probabilmente la serie sarebbe arrivata tranquillamente a quelli che sono la dodicesima stagione Però continuando ad avere un rating così basso rischiamo veramente davvero tanto di non arrivare nemmeno alla nona o alla diecima Quindi insomma una cosa davvero problematica per quanto riguarda la serie Ma credo che questa sia stata una stagione che comunque ha messo il diciamo i piani Ha messo comunque le cose le carte in tavola per quello che sarà appunto la guerra con Negan Che dovrebbe essere una stagione davvero stupenda Io ci spero davvero tantissimo Però perché comunque insomma ci punto davvero tanto in quella stagione Credo che gli ascolti aumenteranno sempre di più Comunque fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate Perché è davvero una cosa veramente veramente molto tragica se si può dire così per noi fan Però perché non vorrei arrivasse poi la fine presto la fine appunto di The Walking Dead Perché comunque continuando così rischieremo davvero tantissimo di non vedere la serie Manco per arrivare alle dieci stagioni Nel senso che sicuramente arriveremo a molto di meno Se gli ascolti continueranno ad essere così bassi Fatemi comunque sapere voi nei commenti cosa ne pensate Ma devo dire che comunque togliendo tutto Gli scalodi ascolti eccetera eccetera Ma The Walking Dead è sempre stata la migliore serie in America Più vista nel senso la più vista sul canale network AMC Quindi insomma non l'ha da dire Però speriamo appunto che gli ascolti aumenteranno Per arrivare presto poi a una media diciamo degli spettatori Come grosso modo la sesta oppure la quinta Speriamo appunto di arrivare a un rating così Ma la vedo veramente molto difficile Comunque fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate Se anche per voi è arrivata la fine di The Walking Dead Oppure credete appunto che The Walking Dead Stia aggiungendo alla fine Proprio perché comunque il rating parla chiaro Ma speriamo appunto sia soltanto una stagione E poi l'ottava partirà con il bot Comunque fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate Non ci dilunghiamo in chiacchiere Iniziamo subito col question and answer Visto che insomma la prima parte del video Era quella che parlava appunto di questa cosa qua Che comunque è una situazione davvero molto molto problematica per la serie Speriamo appunto vada tutto per la meglio Per l'ottava stagione Anche nel finale di questa settima magari gli spettatori potrebbero riaumentare Comunque nulla Passiamo subito col question and answer Prima domanda ce la fa Dayline Manzo Che ci chiede question and answer Pensi che Inid in questa stagione possa morire? Questa è una bella domanda Davvero bella bella domanda Perché comunque Inid è stato visto un personaggio sempre un po' tra le sue Nel senso non è stato mai secondo me analizzato per bene Solamente nella sesta è stata analizzata la sua backstory Se si può dire così per quanto riguarda il personaggio di Inid Ma non gli è stato mai dato tanto spazio come personaggio Io credo che comunque Inid in questa stagione non morirà assolutamente Ma potrebbe farlo magari durante la guerra Per dare magari un cambiamento radicale a quello che è il personaggio di Carl Visto che comunque Inid e Carl dovrebbero stare insieme Tecnicamente non si è capito bene Però comunque dovrebbero stare insieme Quindi per Carl potrebbe essere tranquillamente un duro colpo Che comunque insomma potrebbe cambiarlo diciamo sostanzialmente come personaggio Quindi Inid comunque in questa stagione lo escludo che possa morire Ma magari nella prossima potrebbe essere tranquillamente Prossima domanda ce la fa Grabando Gamer Che ci chiede question and answer Secondo te Rosita dopo che Sasha l'ha chiusa fuori Cercherà di entrare oppure ritornerà ad Alexandria Questa è una bella domanda perché comunque Rosita in questo momento Lei è scappata da Comunque si è l'alzento Ripro perché comunque Sasha l'ha chiusa fuori Quindi ovviamente lei non poteva assolutamente rientrare E l'unica cosa che ha fatto essendo che stavano arrivando i salvatori Doveva scappare e andarsene Però il fatto che avesse appunto nella fine dell'episodio 14 Abbiamo visto Sasha guardare un personaggio misterioso Tra cui Daryl o Dwight Comunque lo trovate il video nel canale Perché ho fatto l'analisi se può dire così Di quella che è la possibilità che sia Daryl o Dwight Quindi lo trovate sicuramente nel canale quel video Parlando di questa cosa qua Rosita magari potrebbe avere un piano con Dwight E non tornare ad Alexandria ma cercare addirittura anche loro Di unirsi a quella che sarà la missione di Rosita Di quella di uccidere Cioè di Sasha più che altro Di Sasha e Rosita Di uccidere appunto Negan Scopriremo un po' come succederà Ma credo che comunque Insomma Rosita si unirà se si può dire così a Dwight Cioè Dwight più che altro si unirà al gruppo di Bic e gli altri E cercheranno di affrontare appunto quello che è Negan insieme Infatti secondo me ci sarà una discussione fra Rosita e Dwight E molto probabilmente vedremo appunto Questa unione da parte di Dwight al gruppo di Bic E Sasha e Dwight Sì Sasha e Dwight Rosita e Dwight molto probabilmente magari torneranno ad Alexandria E nel 16esimo episodio magari vedremo proprio quello Cioè che Dwight e Rosita tornano ad Alexandria E Daryl ovviamente che è un po' Sicuramente Daryl non la prenderà tanto bene Perché ovviamente insomma dopo tutto quello che gli è successo Dwight comunque ne è fortemente colpevole Comunque fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate Prossima domanda ce la fa I'm Negan Che ci chiede question and answer Ciao Fox secondo te come Sasha lascerà la serie? Mi saluti? Allora ciao I'm Negan E comunque Sasha secondo me appunto verrà uccisa da Negan Molto brutalmente E trasformata in zombie Nel senso che molto probabilmente lo zombie di Sasha Verrà portato davanti ai cancelli di Alexandra da Negan E ci sarà il finale di questo 15esimo episodio Cioè secondo me appunto sarà un finale del genere Secondo me verrà torturata o anche peggio Spero davvero di no perché comunque insomma Un personaggio come Sasha mi dispiacerebbe tanto Vederlo in questo modo Ma comunque insomma la sua morte è davvero alle porte Perché comunque credo che sia un bel colpo Sarà un bel colpo vedere da parte del gruppo di Rick Vedere il corpo di Sasha Magari zombie E Rick che dovrà ucciderlo Però perché comunque Negan lo ha ucciso E fatto trasformare Insomma dovrebbe essere un finale davvero bello Quello che sarà quello che appunto è Quello del 15esimo episodio Speriamo appunto che per Sasha magari non succeda Magari Sasha riuscirà a scappare Ma la vedo molto molto difficile Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate Prossima domanda ce la fa Giuseppe Siciliano Question and answer Secondo te Carl potrebbe uccidere Negan e Morgan? Che ruolo avrà nella guerra? Allora questa è una bella domanda Carl comunque l'eventualità che Carl possa uccidere Negan La escluderei Proprio perché comunque Carl è uno dei tanti Che vorrebbe uccidere Negan Ma ci sono davvero tante persone Che potrebbero essere più gettonati Di quello che potrebbero appunto uccidere Negan Ma la vedo anche difficile che Negan muoia Perché ho fatto davvero tanti video riguardanti questa teoria Che Negan potrebbe sopravvivere come Villain Perché tutti i Villain sono morti Potrebbe essere interessante vedere il fatto che Negan Possa sopravvivere a quella che è appunto la sua morte Quindi insomma sopravvivere come Villain in generale Quindi secondo me Carl lo escluderei che potrebbe uccidere Negan Ma magari potrebbe ucciderlo o Rick Perché comunque gli ha fatto la promessa E sappiamo che le promesse Rick le mantiene Prova chiave con Garrett Quando Rick ha ucciso Garrett Gli aveva promesso che l'avrebbe ucciso con un macete Con l'impugnatura rossa E così è stato L'ha ucciso con un macete con l'impugnatura rossa Quindi nulla da dire al personaggio di Rick Che le promesse le mantiene sempre Però insomma Il fatto che comunque Carl possa uccidere Negan Lo escluderei totalmente Magari sì come ripeto Rick Oppure magari potrebbe farlo tranquillamente Daryl O altri personaggi Magari Maggie Perché comunque Maggie è anche una delle più gettonate Però perché dopo che ha massacrato Glenn Credo che voglia avere una vendetta Veramente molto Diciamo Sostanziale Ecco una vendetta fatta per bene Comunque per quanto riguarda invece la domanda La domanda appunto successiva E Morgan che ruolo avrà nella guerra Allora speriamo che Morgan Trovi un equilibrio Nel senso Morgan deve trovare assolutamente un equilibrio Perché non può continuare a stare in questo modo Nel senso Morgan Ha avuto un cambiamento davvero sostanziale Già dalla terza stagione che è cambiato Perché Rick l'ha ritrovato Ma era totalmente impazzito Nella sesta grazie a Eastman è riuscito a recuperare se stesso Ma dalla settima Quindi praticamente il tredicesimo episodio Morgan è cambiato di nuovo Nel senso sta di nuovo impazzendo Speriamo trovi un equilibrio Capisca che comunque deve uccidere Soltanto quando è necessario E trovare una Diciamo una via di mezzo Per quanto riguarda la sua filosofia Perché comunque la sua filosofia totalmente Diciamo la filosofia totale non è applicabile Nel senso che non è che non può uccidere nessuno Ovviamente lui deve uccidere qualcuno Come ha ucciso quel salvatore Per tenere in vita Carol Quindi ovviamente questo lo deve fare Infatti quella è stata la prova Che non può essere sempre così Nel senso Morgan non può permettersi di non uccidere Perché quando realmente ce ne sarà bisogno di farlo Morgan dovrà essere pronto Infatti secondo me il suo cambiamento Non è stato tanto anche per la morte di Benjamin Perché la morte di Benjamin è stata una cosa davvero Che lui l'ha straziato Ma secondo me è stata proprio la goccia Che ha fatto traboccare il vaso E Morgan comunque è impazzito totalmente Spero che appunto trovi diciamo Quella che è un equilibrio Però perché comunque potrebbe essere Un elemento fondamentale Per quella che sarà la guerra contro Negan Speriamo non muoia magari nel finale di stagione Perché sarebbe veramente una cosa molto molto triste Perché comunque il personaggio di Morgan A me sta piacendo sempre di più L'ho rivalutato davvero tanto E spero tantissimo che sopravviva in questa stagione E trovi come ripeto un equilibrio Prossima domanda ce la fa Blue Tom Selly Che ci chiede Questo è un'anser Secondo te dopo che sarà finita la guerra con i salvatori Che obiettivo avranno i protagonisti Quelli sopravvissuti Grande ti stimo Grazie mille tranquillamente per il complimento Veramente grazie Secondo te che Che sarà finita la guerra con i salvatori Che obiettivo avranno i protagonisti Allora questa è una bella domanda Proprio perché comunque Ricordiamo che The Walking Dead Diciamo la storia di The Walking Dead La segue dal fumetto Nel senso che la serie è parallela al fumetto E il fumetto Cioè sta diciamo Andando verso la piaga Dei salvatori Dopo la morte di salvatori Insomma i sussurratori Quindi insomma Cioè ci sono tanti gruppi Che verranno introdotti Ma nella serie è un po' difficile Diciamo Gestire le cose Però spero tranquillamente Che trovino Quello che è una storia Alternativa Dopo Negan Cioè i sopravvissuti Dovranno affrontare altre persone Magari come ripeto Negan si allerà Al gruppo di Rick Che dovranno sconfiggere i sussurratori Magari ci sarà tranquillamente Uno scontro aperto Fra Negan e Rick Magari dopo aver sconfitto i sussurratori Cose del genere Insomma Pretendo davvero tanto Dal personaggio di Negan E spero non muochi Diciamo subito Perché comunque Se muore Negan La serie insomma Deve inventarsi qualcos'altro Per poter appunto Ancora trasmettere emozioni Perché adesso le sta trasmettendo Davvero tantissimo Però deve continuare in questo modo Con davvero Personaggi chiave Personaggi fondamentali Personaggi che fanno rivalutare la serie Infatti Negan Ha rivalutato molto la serie È stato il personaggio Che secondo me Ha fatto Diciamo davvero tanto Per questa serie E sta facendo davvero tanto Quindi spero tranquillamente Che come ripeto Negan avrà Comunque uno spazio Ancora di più aperto Diciamo Per tutte quelle che sono Le stagioni future Magari spero che non muoia Nell'ottava Ma magari può arrivare Tranquillamente alla nona Fatemi sapere Comunque voi nei commenti Cosa ne pensate Prossima domanda E ultima Sì siamo arrivati All'ultima domanda Ce la fa Gaia in prota Che ci chiede Come ti chiedo sempre Come ti immagini La morte di Rick E quella di Negan Se è un grande Fox Continua così Grazie mille Gaia Per il complimento Davvero tantissimo Grazie grazie Per quanto riguarda La tua domanda Ti dirò Come mi immagini La morte di Rick Credo che Rick Possa morire Sacrificandosi Nel senso che comunque Magari per salvare la vita Carl Appunto Rick muore Oppure per il gruppo In generale E sarebbe un finale Davvero triste Perché comunque Magari Carl Dovrà uccidere Rick zombie E lui dovrà farlo Quindi sarebbe Una cosa davvero Un finale veramente figo Di quello che sarà La morte di Rick Mentre quella di Negan Me lo aspetto Una coltellata Magari nella gola Come comunque Potrebbe essere Oppure magari Una coltellata al petto Una morte insomma Diversa Da quella delle altre Però perché comunque Un personaggio come Negan Secondo me deve avere Una morte Molto molto più Splatter Tranquillamente Cioè diciamo splatter Che ha avuto La morte di Glenn e Abram Perché comunque La morte di Glenn e Abram Ha avuto tanto tanto Splatter Ha avuto tanto Molto sangue Che è stato versato Da parte di Glenn e Abram E quindi io pretendo Che Negan faccia La stessa fine Perché è comunque Un personaggio Che viene odiato E amato da tutti Dipende dai punti di vista Però comunque Non lo giustifica Avendo fracassato La testa Glenn e Abram Perché comunque Insomma Glenn e Abram Erano due personaggi Davvero spettacolari Due personaggi davvero Fenomenali E deve Deve appunto Pagare Negan Per aver fatto questo Quindi secondo me Una morte del genere Da parte di Negan Deve essere Cioè la morte di Negan In generale Deve essere Proprio Epica Nel senso Deve proprio Soffrire Negan Come hanno sofferto Appunto Glenn e Abram Fatemi sapere Voi nei commenti Magari cosa ne pensate Come vorreste la morte di Rick E come vorreste la morte di Negan Perché è davvero una cosa interessante È una domanda davvero figa Che comunque insomma Ci sarebbe da discutere tanto Quindi fatemi sapere Appunto Voi nei commenti Cosa ne pensate Questo episodio del question answer Finisce qui Fatemi le vostre domande E le altre vostre domande Qui c'è nei commenti Mi raccomando Fatene tantissime Così che posso rispondere Appunto Nei prossimi episodi Spero tranquillamente Che questo video vi sia piaciuto In tal caso vi ricordo Di lasciare un mi piace Mi raccomando ragazzi Lasciatelo Perché ci tengo Veramente moltissimo Iscrivete al canale Per non perdervi I prossimi contenuti Di The Walking Dead Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi E inoltre Passate nella pagina Facebook Nel profilo Instagram Tutti i link Li trovate in descrizione Fatemi sapere anche Nei commenti Cosa ne pensate Riguardante Il calo di ascolti Della serie Così almeno Insomma Esprimete appunto La vostra opinione Qui già nei commenti E ci confrontiamo E che dire Noi ci sentiamo Ad un prossimo video Un saluto da Foxana The Walking Dead News Spoiler e altro Bella Ciao a tutti Ma io ti ucciderò